Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla insieme Oggi è una giornata fantastica perché faremo scherzi a bella faccia per 24 ore Infatti 5 mesi fa ho fatto un video dove gli mettevo dei comandi a caso al suo personaggio Lo facevo volare, lo facevo morire, eccetera eccetera E lui non ha mai visto quel video quindi pensa ancora che fossero semplicemente dei bug del gioco Piccolo bella faccia Adesso gli faremo tanti begli scherzi Come per esempio gli potrei mettere la velocità a 9000 Gli potrei mettere il salto a 9000 Gli potrei mettere una super fame Oppure un milione di cuori Ma la cosa interessante è che io farò finta di non vedere nulla Quando lui mi dirà Ma Kendall sta succedendo questo? Io gli dirò Io non lo vedo è tutto normale per me E per chi se lo stesse chiedendo Bella faccia gioca sempre con la chat disattivata Quindi non vedrà che sono io a dargli gli effetti Adesso aspettiamo che entri nel server perché dovrebbe venire da un momento all'altro Sono già le 2 Noi di solito registriamo tipo verso le 2, 2, 10 Tra l'altro devo anche trovare una scusa Gli devo tipo dire che voglio costruire qualcosa Cosa potremmo costruire? Cosa ci manca nella vanilla insieme? È una farm Ok gli dico di fare una farm del cibo Ecco chissà se si può fare la farm del cibo Ma sì 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 Nel suo mondo una l'aveva fatta Anche perché questo qua di grano è veramente piccolina adesso E stiamo sempre morendo di fam... Oh è qua È entrato ragazzi Oh eccolo C'ha la mia armatura che quando gli dai i pugni Mi riprendo danno io indietro Ma è fermo Ma c'ha la testa girata Ma bella faccia Ma non sono ancora iniziati gli scherzi Ancora non è su TeamSpeak ragazzi Dobbiamo aspettarlo Dai ti muovi Eccomi Oì ciao Allora oggi voglio fare un video della vanilla insieme E voglio costruire Pensavo a una farm Tu sapresti farla una farm di cibo Calma 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 Cioè io entro fammi respirare un attimo mamma mia Aspetta che faccio la intro ok 3 2 1 Salta 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 Ciao a tutti ragazzi sono Kendall E benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ciao Oggi sono in compagnia del mio caro amico Bella faccia Nella vanilla insieme Cosa facciamo oggi bella faccia? Oggi facciamo non ho idea Una farm Facciamo una farm Te l'ho detto poco fa Facciamo una bella farm di cibo Tu la sai fare una farm di cibo? Sì Chi non sa fare una farm di cibo? Io Io non la so fare una farm di cibo Allora Hai i materiali Andiamo a prendere tutto quanto? Vado Vado Cosa può servire? Allora vediamo Pistoni ok Sì Della redstone Sì Ok Le lastre sono qua La leva C'è tutto Ok possiamo andare Andiamo Che c'è bella faccia? Ma Eh? Ma mi ha catapultato avanti Ma che stai dicendo? Dai andiamo Ah boh Ma Allora Vabbè avrà No vabbè avrà laggato Dai Ok Allora facciamo una farm Dove la possiamo fare? Ci serve dello spazio Quindi la potremmo fare Qua guarda qui Qua davanti proprio E qui abbiamo Una piazza Ma non è tipo brutta Non si rovina Tutto quanto L'aspetto della vanilla insieme? Oh Ma che No aspetta Ma che hai? No aspetta aspetta Sto laggando mi sa Stai laggando? No no ma io ti vedo con 5 tacche No no aspetta aspetta Tagliala tagliala Mi sa che stavo laggando Ok Eh perché dopo Ok aspetta No dopo ero qui Ero là Ok La facciamo qua allora Bella faccia? Ok sì 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 Ma non si rovina tipo l'aspetto Della vanilla insieme? Non viene più brutto? No vabbè Pian piano Cioè di fronte casa nostra No noi facciamo la farm Vabbè ingrandiamo il nostro mondo Oh No vabbè No 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 aspetta un attimo dai Fammi fare il test Dalla connessione Cioè ti giù Ma non mi vedi? Ma stai laggando? Ma mi vedi qua giù o vicino a te? Sì ti sei teletrasportato Dalla sotto fino a qua Allora starò laggando Aspetta provo a riavviare Ok Aspetta riavvii un attimo Il computer Sì tranquillo ho tempo Non ci posso credere ragazzi Penso di stare laggando Beh in effetti Come vi dicevo Non avendo la chat Non può vedere che sono io A dargli questi effetti E al momento Gli sto dando L'effetto di velocità 250 per 5 secondi Che è l'effetto massimo Ora vi faccio vedere Più o meno Come sarebbe questo effetto Su di me Così capite Che cosa sta provando Bella faccia Ecco Oh mio dio Oh mio dio È bellissimo Adesso non dovrebbe più Vai Allora Rifacciamo tutta L'intro ce l'hai Dai facciamo la farm Ok Allora bella faccia Voglio fare una bella farm La potremmo fare qua davanti Una farm Non lo so Di cibo abbiamo detto Ok Ma come iniziamo Come si fa più o meno Allora scaviamo un attimo Ok Così Scaviamo 5 blocchi Sarà semi-automatica Questa è facile Ti piacerà Ne sono convinto Dai voglio vedere Magari i fan imparano anche qualcosa In questo modo Ok aiutami a scavare un pochettino Eh non ho la pala Non posso Scava tutto questo qua tu E poi faccio il resto io Sempre devo scavare io Incredibile Vabbè dai Oh per un secondo Scava lì Scava qua Scava giù Quindi di quanto No aspetta Ma mi vedi Ti vedo Oh sto cascando Sto cascando Bella faccia Ma che stai facendo Sei qua No mi vedi Ma dove sei Ma Ah sei qua Vabbè Vabbè dai lasciamo far Perché No niente niente Allora Bisogna mettere i pistoni A pizzicosi qua Poi a seguire Bisogna mettere i ripetitori Te non fai mai niente Mi stai sempre Ti sto guardando Bella faccia Perché devo capire Io non la so fare la farm In questo modo Facciamo un bel tutorial Per i fan Così anche loro Sanno più o meno Come si fa una farm del cibo Guarda Si fa così Perché io non ho la più pallina idea E vedi che si attivano Ok Sì ok Ma cosa si attiva Da dove esce il cibo Scusa No adesso Un attimo Sto finendo la farm Allora Dopodiché Si scavano Altro po' qua È meglio se andiamo a dormire Che fra un po' si fa notte Sì si fa notte Andiamo a dormire Quanto mi stai aiutando Vabbè Prendo la pala Vado a prendere la pala Così si possa aiutare Sempre a lamentarsi Ragazzi è incredibile Ma Oh 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 Candle 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 Dai che c'è Solinario Solinario Andiamo a dormire Ma che cavolo sta succedendo No vabbè No aspetta dai Viene a dormire Oh Bella faccia Ma sei morto Ma che cavolo Ma bella faccia Ma perché sei morto Ma scusa Ma non sto capendo Cosa sta succedendo Mi Mi vuole in alto Il personaggio Ti vuole in alto Il personaggio Ma cosa dici No aspetta Fammi riprendere le robe No ti giù No no Ce la fai a registrare Questo episodio No ti giù Ah ma oh Non so cosa dirti Veramente Dai ho già fatto Tipo dieci tagli Eh ho capito Ma non è mica colpa mia Ma non Ma te non hai visto Che sono volato in aria Tipo No io ti ho visto qua E a un certo punto Sei esploso Eh ho capito Perché sono andato in alto No Vabbè Andiamo a dormire Ok Allora andiamo a dormire Kendall ok No vabbè Tanto la taglio Questa tranquilla Ah ok Buonanotte Buonanotte Allora mi faccio una bella pala Così almeno ti posso aiutare Visto che non fai altro Che lamentarti Eh di qua Di là Kendall non fa niente Io mi lamento Eh beh Si sta lamentando Io non sto dicendo niente Sempre io mi lamento Dai insegnami Cosa devo fare Bella faccia Allora Adesso un attimo Un attimo Sto facendo gli ultimi ritocchi Mi serve Vediamo Della terra Eccomi Oh Che andale Oh 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 Che c'è Non vedo niente Eh non vedi niente Dai bella faccia Non vedo niente Quanta terra ti serve Dai Non vedi niente Ti giuro non vedo niente Dai su Dai cecità Sei diventato un cecio No vabbè Sta succedendo qualcosa di strano Mi prendi in zero Non c'è senso Non c'è senso scusa Dai vabbè Allora prendo un po' di terra così Ne ho 44 Sono già pieno di terra Sì Non mi serve più Ok Allora andiamo avanti Ok guarda Oh 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 Ancora ancora lagga Guarda guarda Hai visto? No sei qua Hai visto che mi teletrasporto avanti? Ma cosa dici bella faccia? Sei qua Sei davanti a me Ma corro tipo velocissimo Dai senti Non lo vuoi registrare il suo video? Fammi capire Ma io Ti devo dire Provare a avviare ancora Non lo so No dai Non lo so Sei sicuro? Non mi stai trollando Vero? Te forse mi stai trollando? Ma va figurati Non lo farei mai Ma stai ridendo? Cos'è? Oh Porca misera Devo immaginarlo Oh Guarda Adesso mi vedi Mi stai guardando Ma che cavolo Non è Ma mi spieghi perché tu giochi Con la chat disattivata? È perché mi dà fastidio Quindi mi stai trollando? No Figurati Non ti trollerei mai Io non ho parole ragazzi Guardate dove è andata Io non ho parole Ecco No Vieni qui Vieni qui No Vieni qui No Vieni qui Sto facendo un video Ma tu non ti ricordi che 5 mesi fa Ti ho fatto uno scherzo uguale Però tu pensavi fossero dei bug di Minecraft Cosa fai? Oh Ti ricordi? Era quello scherzo Mamma mia che fantasia Wow Un applauso Un applauso Un applauso a Kendall E io stupido che non me ne rendo nemmeno Vediamo che altro effetto posso darti Bella faccia Allora effetto Perché a me piace tantissimo dare gli effetti alla gente No Non mi dai un altro effetto Effect give Bella faccia Cosa ti posso dare? Allora abbiamo absorption Diamanti No non esiste diamanti No no Clawing Oh Adesso sei tutto illuminato Così ti posso vedere Ti posso vedere anche a distanza No no toglimi questo Vediamo che altro gli possiamo dare No smettila Basta Ti posso fare diventare invisibile No Kendall Sei invisibile Oh Sì guarda Ora sei invisibile I tuoi effetti non funzionano Oh Sì i miei effetti non funzionano Bella faccia Oh No un'altra volta Ma cadi nell'acqua Cadi nell'acqua Oh Ti sei salvato Oh mamma Ah si è un pro Ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Fermo Aia A me non mi è piaciuto Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video Dove trollo bella faccia per 24 ore Non ce l'aspettava Dal vostro Kendall è tutto Sto morendo bella faccia La smetti per favore Stai morendo Sì sto morendo Fermo Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao